se vuoi tornare a vedere questo non mi serve e quindi ho preso un'ottima ritornata e adesso ho preso un'ottima ritornata comunque ho messato questo mi hanno liberato e ora stiamo andando via mi metto come la capo a legno perché così c'è la c'è un sacco c'è di campare un sacco di scheletri ma che c'è entriamo qui dentro prendiamo il carbone comunque non so se l'ho detto allora raggiungiamo minimo minimo 5 like per il prossimo episodio di minecraft cioè no minimo 5 like cioè no aggiungiamo i 5 like tanto lo so che non non ce la farete mai sono sicuro al cento per cento non ce la fate voglio vedere se mi riuscite a stupire sicuramente non ce la farete e se non ce la facciamo bye bye minecraft corri che c'è uno schede del tuo personaggio gli faccio un accampamento ma sono stupido perché con questo legno che mi serviva ragazzi dobbiamo passare la notte così allora per ora ci facciamo una bella cutting table che l'avevo lasciata via io ora aspetto ok e facciamo che l'avevo Allora Questo Ok Allora Devo libero bastardo Sì Passeremo Tutti così Questo episodio era Così Deve avvertire per dire che Domani Deve organizzare bene allora I giochi che volete Di chiamine Poi Allora Se mai porterò Faremo Minecraft Minecraft Se raggiungiamo i 5 like Anzi facciamo una cosa Voglio vedere se riuscite a superarli I 5 No Vabbè Vediamo se riuscite Vabbè a me va bene A me va bene A me va bene anche i 5 like Quindi se questo video raggiunge 5000 like Continua la serie Se non li raggiunge no E io Questo episodio Lo finisco qua Ciao ragazzi Ah scusate Brewstars lo porteremo Anche Porteremo anche Brewstars E anche Gli altri giochi Cioè Farò tipo Un giorno Blablabla Brewstars In Minecraft Due volte a settimana Se non registri Vuol dire Qualche impegno Tipo domani No Domani Però a sto punto Se qualche impegno Poi ve lo porterò Vi porterò Minimo 5 giochi Però mi dovete scrivere i quali E io Vi saluto così In questo bunker Questo episodio era Solo per farvi vedere Che portavo Minecraft Che lo porterò ancora Se raggiungi Gplay Ciao ragazzi